allora solare oggi per raccontarci una storia formidabile una storia di vocazione la sua c'è don davide tisato ben arrivato dice parroco di santa maria delle grazie a casal boccone a roma don davide io poco prima poco fa insomma ho detto ce l'abbiamo un pallone da qualche parte lei sobriamente mi ha detto no no lasciamo stare questa no è no no il pallone è il passato è il presente il signore mi ha chiamato ad altri campi allora arriviamo era questa era soltanto per dirvi di che cose di che storie stiamo parlando andiamo con ordine intanto per ordinare sacerdote don davide c'è papa francesco 26 aprile del 2015 e mi racconti un po che cosa è passato per la sua testa in quella giornata il giorno dell'ordinazione sacerdotale qualcosa che che ti supera perché la chiamata di dio è al di là di ogni schema e anche dei progetti che io me l'ho fatto per la mia vita e sono culminati appunto in questo giorno fantastico memorabile per la mia vita e anche di tutti gli altri miei compagni di ordinazione per cui abbiamo ricevuto anche questa grazia di essere ordinati dal santo padre nella basilica di san pietro e che poi ci ha fatto anche tanti tanti regali il dono del sacerdotio è un qualcosa di di immenso veramente non nessuno lo può meritare io sento di essere di aver ricevuto questo dono veramente e non sono degno di tutto quello la grandezza che dio fa e l'opera che dio ha fatto nella mia vita don davide si vede che abbiamo un grande bisogno di lei perché nessuna vocazione arriva arriva per caso ma la fotografia che avete visto prima non è un fotomontaggio cioè di quelli che tu dici sì t'affaccia la finestra col papa sì vabbè parliamone no lei con un suo compagno di sacerdozio si ha avuto la faccia tosta e queste parole non sono mie le ha dette il santo padre di chiedere di affacciarsi col papa stato un regalo nel regalo diciamo meraviglioso ed è stato qualcosa di che dava fuori dagli schemi come questo papa che va sempre al di là e si sorprende di giorno in giorno ma chi gliel'ha chiesta questa questa cosa ma è un'idea che è nata lì per lì assieme al santo padre e poi è venuta questa questa idea e così lui ha avuto la prontezza di invitarci a questa finestra e coraggio di affacciarvi famosa del mondo e noi il coraggio di sì di stare si provano le vertigini a stare lì non è anche se non è altissima come finestra però è la finestra è la ma è vero che il papa vi ha detto avete una bella faccia tosta aggiungendo poi che serve altrettanto ci ha detto che dobbiamo essere se dobbiamo avere la faccia tosta sempre anche con il signore nella prighiera perché ogni volta che ci rivolgiamo a dio gli chiediamo qualcosa beh quella la vera faccia tosta che ogni cristiano ha tutti i giorni senta non davide allora torniamo indietro lei da giovane da cui la mia richiesta e non lo faremo ovviamente del pallone lei indossava sì una divisa ma era diversa intanto lei dove è nato io sono nato a verona quartiere sono il quartiere del chievo famoso per la squadra di calcio esatto e sono il quarto di sei figli i miei genitori e dopo aver avuto i primi due figli pensavano di non averne più poi grazie a dio il signore ha visitato anche a proseguito con i regali matrimonio la famiglia attraverso l'esperienza di fede del cammino neocatecumenale e quindi è nato mio fratello che ha tre anni in più di me poi sono nato io che sono il quarto e altri due sorelle dopo di me avete mai pensato di giocare a calcio tutti quanti insieme perché siete una squadra qualche volta l'abbiamo fatto c'è chi è più bravo chi meno però sì sì non le chiederò chi sia il più bravo ma comunque questa carriera la carriera l'abbiamo vista prima bambino insomma col pallone accanto avrebbe potuto insomma è una carriera votata al professionismo no diciamo che sì poi è il sogno di ogni ragazzino poter approdare a giocare a calcio in qualche serie importante e diciamo che mi aveva dato anche questa questo dono di riuscire bene anche nel calcio e ho iniziato una piccola squadra del quartiere poi sempre a verona era arrivato un passo da entrare nel chievo e sì diciamo di sì poi i passi nel calcio sono sempre o lunghi o corti dipende da da tanti fattori però è vero che poteva essere una prospettiva quello quello sì e anche già da da giovane giocavo mi davano anche quattro soldi per cui mi potevo mantenere l'università io l'ho scritto economia prima di entrare in seminario e anche questo mi dava oltre che è una grande carica anche tante motivazioni per poter continuare per ambire a questi grandi risultati e qui la domanda io gliela devo proprio fare ma gliela faccio nel mio ruolo e da persona anche curiosa perché la vocazione religiosa lei mi risponderà perché la mia vita ha ragione e perché l'ha portata fin qui da papa francesco ma perché ma io le risponderò più che è la mia vita io direi che è la sua vita la vita che dio mi ha dato che ho ricevuto come un dono e che io non sto facendo altro che restituire perché se si parla di vocazione si parla di qualcuno che ti chiama e se sei chiamato sei convocato diciamo per usare un termine calcistico e l'allenatore ti mette in campo nel ruolo dove pensa che tu possa rendere di più e il signore si vede che per me aveva scelto questa strada che le ripeto va al di là dei dei miei schemi io avevo pensato a una vita un futuro completamente diverso non pensavo nemmeno di di venire a roma di fare tutta la formazione a roma né di sentire una vocazione missionaria per tutta la chiesa io ho sentito che il signore mi stava chiamando e a dare il dono più grande che ho ricevuto oltre la vita io ho ricevuto la fede come si dice anche nel giorno del del battesimo anche nel dialogo con il sacerdote che battezza i bambini la fede dalla vita eterna allora ho pensato ma un dono così grande io lo posso tenere solo per me non posso essere così avaro di tenere quello che il signore mi ha dato come un regalo e allora ho seguito semplicemente una strada non io non ho nessun merito quando si risponde una chiamata non abbiamo meriti se non quello di dire al signore fai tu anzi io per tanto tempo e ho pensato che dovessi portare avanti io con i miei sforzi la mia vita ed è vero che avevo una vita piena sia con il calcio ma anche con la famiglia che il signore mi ha dato gli amici studiando economia e andavano bene anche tutti gli esami gli amici le relazioni che che aveva anche la mia città che piaceva molto per cui seguire questa strada e in qualche modo mi è costato per pensando a quello che avrei dovuto lasciare ma ti assicuro che quello che ho trovato è infinitamente di più si vede perché quando stai con il signore veramente lui ti dà il centuplo come dice il vangelo e non ti toglie nulla anche questa passione del calcio il signore me l'ha data anche a Roma di poterla coltivare è una lampadina lei lei è una lampadina accesa nel senso parla ed è luminoso la corrente è lo spirito santo perché la lampadina se non passa la corrente non fa nulla ma è una lampadina non c'è l'interruttore però lei rimane acceso e questo glielo dico facendo un applauso ma proprio con tutto il cuore creda creda allora al seminario redemptoris mater dove ha studiato c'era la squadra di calcio allora lo dice però allora me lo fai apposta nel senso insomma lei è un prete che gioca a calcio mi dica questo diciamo che non giocherà qui in studio con noi ma il signore che mi conosce mi dà anche le caramelle questi regali belli perché forse se fossi arrivato in una struttura io pensavo ai seminari ai luoghi di formazione sacerdotale come dei posti anche abbastanza cupi bui invece sono arrivato in una struttura molto bella con un bel giardino curato e c'era anche il campo da calcio quindi quando sono entrato per la prima volta ho detto veramente il signore mi stava aspettando qui perché grazie anche al al campo da calcio e anche allo sport che mi ha sempre dato molto sono riuscito a conoscermi veramente fino in fondo e anche a conoscere gli altri miei compagni di seminario anche a poter diciamo lasciare tante preoccupazioni che poi durante la formazione puoi avere puoi accumulare perché poi la vita del seminarista è molto sedentaria e siamo seduti all'università nelle aule delle lezioni di filosofia e di teologia siamo seduti nella cappella quando preghiamo sì chiaro è un cambio che si riesce ad ottenere e poi poi insomma qualcuno ricorderà l'amirabile partita di pallone dove don camillo con la sua squadra si mette contro peppone con la sua squadra a firma giovannino guareschi insomma un parroco vice parroco che sa organizzare una squadra di pallone poi da piccolino guardavo spesso è notevole no i film di don camillo e soprattutto la parte della partita di pallone mi attirava sempre voi ogni volta che la si vede la si vede ancora una volta e poi verrà verrà la prossima poi arriviamo alla squadra anche alla clericus cup missione lei ha parlato di missione dove non ho un posto preciso dove desiderare di andare in missione perché già negli anni di formazione ho girato un po il mondo quando il collegio era chiuso nei mesi di luglio agosto il nostro lettore ci chiedeva di offrire questi due mesi di vacanza per conoscere un po la missione sono stato in guatemala in australia in madagascar in brasile fatto due anni di missione in terra santa e quello mi è entrata nel cuore però la missione sempre parlando di vocazione dove dove ti mettono e dove dove stai dove l'allenatore dice che tu debba vai che quella è la squadra giusta certo che sì certo che si senta è un'altra cosa don davide prima di arrivare al finale che è la sua attività oggi come vice parroco tutti quei suoi amici credo che la sua famiglia sia stata comunque molto tifosa no perché lei l'ha descritta in una maniera che viene naturale immaginare poi sugli spalti a fare il tifo per lei e i suoi amici come hanno reagito a questa sua decisione io uno dei timori più grandi che avevo quando ho sentito che il signore mi chiamava lasciare tutto entrare in seminario era poterlo dire alla mia squadra di calcio i miei compagni di calcio con cui ci allenavamo quasi tutti i giorni le partite che abbiamo fatto insieme e allora hanno parlato prima l'allenatore e poi l'allenatore prima di di un allenamento eravamo tutti in cerchio dice davide ci devi dire una cosa allora io ero un po' spiazzato e davanti a tutti ho detto che il signore mi stava chiamando a lasciare tutto a entrare in seminario per diventare sacerdote e mi sarei aspettato una reazione completamente diversa perché l'ambiente del calcio non è un ambiente in cui notoriamente ci sono tanti fedeli o credenti e anche se il calcio spesso è una fede e ho sentito delle reazioni veramente molto belle che porto ancora nel cuore per cui tutti mi hanno incoraggiato a seguire questa strada e mi sono sempre stati vicini anche quando torno a verona con molti sento ancora ci vediamo veramente ed è stata una un'occasione molto molto bella e anche di vicinanza di coesione di squadra senta don davide ultima domanda velocissima lei oggi nella sua parrocchia come vice parroco quante ne con quanto è attivo quanto mette in piedi la squadra quante ne combina cioè nel senso migliore del termine ma facciamo quello che possiamo perché attività sono molto è sì soprattutto con con i giovani il catechismo mi piace organizzare anche delle uscite portare i ragazzi in pellegrinaggio andare in montagna poi attorno a roma ci sono dei posti meravigliosi quindi anche i campi estivi pellegrinaggi a piedi e la clericus cup continua a giocarla quando posso qualche allenamento e qualche partita me la faccio la clericus cup purtroppo non rientra più in tutte queste attività che allora lei suo ruolo qual era difensore allora il difensore di dio don davide tisato con la sua maglia della nazionale che vale in tutto il mondo perché questa è la partita che voi giocate tutti i giorni come sacerdoti e la vostra missione sia in parrocchia che la vostra missione sia lontano dalla vostra parrocchia ci ha regalato la sua personale storia di vocazione non lo ringraziamo dicendogli che sicuramente sicuramente ha fatto gol e non è una battuta detta così per dire un difensore che fa gol può esserci non mi correga grazie a venga qui tutti insieme oggi oggi la giornata è oggi la giornata in cui noi facciamo questa specie di fotografia di gruppo finale vabbè però a me sarebbe tanto piaciuto vederle tirare un pallone e il direttore delle luci deve rompere una delle nostre luci sarebbe stato felicissimo mi fermo qui tra poco seriamente parlando la recita della coroncina della divina misericordia poi domani ore 14 l'ora solare don davide tisato grazie di essere stato in nostra compagnia grazie grazie di cuore paura eh paura